Iniziamo con un barbone grande mole bianco. Barbone mediamole, barbone nano, barbone toy, Tibetan Terrier, Lhasa Apso, Papillon, Shih Tzu, Buldo francese, Japan Chin, Cavalier Kinsha Spaniel, Bichon Havanet, Bolognese, Carlino, Pechinese, Griffone di Bruxelles, Chihuahua Pelo Lungo, Chihuahua Pelo Corto e Raschi Toy. Nel pre-ring, per cortesia, i migliori soggetti di razza del decimo raggruppamento, Lebrieri, che è l'ultimo raggruppamento, dopodiché avremo il best in show finale. Intanto io vi racconto un po' la storia della coppa che continuate a vedere girare sul suo trespolino, sul suo piano girevole, che è il nostro challenger. Cosa significa? Che è un premio fittizio, cioè nel senso che questa coppa rimane esposta tutto l'anno presso la sede del gruppo cinofilo provinciale di Varese, via provinciale 126 a Varese, e viene offerta simbolicamente al vincitore di tutte le varie edizioni dell'Insubria Winner. Perché simbolicamente? Perché verrà applicata ogni anno una targhetta su questa coppa che riporta l'edizione dell'Insubria Winner, la razza e il nome del soggetto vincitore del Best in Show dell'Insubria Winner. Quindi quest'anno poi andremo ad aggiungere un'ulteriore targhetta con il nome del soggetto vincitore dell'Insubria Winner 2021. Intanto abbiamo la preselezione per il Balbone Nano, il Lasa Haps, il Bulldo francese, il Bolognese, il Pechinese ed il Carlino. Grazie agli altri soggetti che lasciano il ring. Li vediamo muovere singolarmente a partire dal Balbone Nano. E ora la volta di questa razza di origine tibitana, il Lasa Haps. Appartiene ai molossoidi di piccola taglia, il Bulldo francese. E' una delle razze italiane, invece, il Bolognese. Era il cane degli imperatori della città di Pechino, il Pechinese. Anche questa razza appartiene ai molossoidi di piccola taglia, che è il Carlino. Vediamo. Al terzo posto, il Balbone Nano. Al secondo posto, il Carlino. E in finale rappresenterà le razze da compagnia, il Lasa Haps. Un giro di ring per il Lasa. E non è un mondo solo di cinofili. C'è anche chi viene a vedere perché a casa non ha un cane. Ti sono piaciuti i cani che hai visto oggi? Sì, molto. Pensi che ne prenderai uno anche per te? Sì. Che cane ti piacerebbe? Curzar. Un Curzar, ma è una scelta molto particolare. Evidentemente sei stato colpito da... Eh, infatti se lo sta sbaciucchiando, mi sembra giusto così. Ti ringrazio, ti auguro di trovare un... Forza Inter. Ma no, queste cose... Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vediamo laggiù cosa succede. Vai Katia. Grazie. Grazie.